Portare speranza e condivisione, ascoltare i bisogni del malato, attenuare la solitudine, sostenere i familiari ed elaborare il distacco. Sono questi i principali compiti dei volontari che assistono i malati terminali. Un compito non facile ma di grande importanza per le persone senza speranza ricoverate negli hospice. Ecco perché dal 2008 è nata in Valseriana l'Associazione Volontari e Sostenitori dell'Hospice di Vertova, cresciuto in seno alla Fondazione Gusmini. Sino ad ora l'Associazione ha formato 20 volontari che danno una mano al personale medico ed infermieristico. Ora intende proporre un nuovo corso perché è importante avere figure come queste che possono stabilire relazioni diverse e più intime di quelle che può instaurare il personale sanitario. Il contributo dei volontari nell'ambito di un reparto come quello dell'Hospice è fondamentale e molto importante. Deriva dal fatto che in una struttura come quella per malati in fase avanzata, che è quella dell'Hospice, vi è la presa in carica non solo del paziente ma anche di tutta la rete amicale parentale, quindi tutto il gruppo di persone che lo assistono. In questo lavoro di assistenza, di ascolto, di vicinanza, il ruolo del volontario diventa un ruolo insostituibile in quanto supera il ruolo che può essere quello dell'operatore professionale, medico, infermiere o psicologo, che dir si voglia, perché appunto con persone che non fanno parte ufficialmente di una rete sanitaria si ottiene un rapporto di ordine empatico sicuramente maggiore. Tutti possono diventare volontari purché maggiorenni e motivati. Chi vuole avvicinarsi all'associazione non deve avere avuto un lutto recente nel lavorare in ambito sanitario.